Ha perso alla Juve due finali, una contro Lazio e una contro il Napoli, una ai rigori e una no. Questo potrebbe essere il suo primo grande trofeo da allenatore in Italia perché... E, rabbio, cosa fa? Oddio, santissimo! Cosa fa Gesù? Cosa fa Gesù? COSA FA GESU? COSA FA GESU? COSA FA GESU?! no 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 il gol scudetto non lo può segnare la più in questo modo cosa sta succedendo ragazzi ci rendiamo conto tunnel a teo hernandez Tutta la fascia dalla destra A centrarsi come se fosse Di Bala Questo è Di Bala Questo non era più questo è Di Bala Era squalificato Gli abbiamo messo il 25 E l'abbiamo fatto giocare No no non ci credo ragazzi Ecco il King infatti inizia a regalare delle sub Inizia a regalare delle sub perché questa cosa Proprio non può essere vera Grazie King Gentilissimo Ciao Messi 0-8-Y Il gol di Gesù ragazzi C'è un altro avanti la porta da solo Ronaldo E ancora la bracciata è più il soglio Regal Possiamo esultare forte in questo momento Possiamo esultare forte in questo momento Che siamo a più 10 Se la matematica non mi inganna La quadrella lunga a lanciare Buonissimo perché taglia in mezzo Queste due centrali che fanno un disastro Che disastro difensivo del Milan Una semplicissima e banale palla lunga A cercare Ronaldo I due centrali del Milan da Museo degli Orruri E con il mancino Cristiano Ronaldo Super infilato E' troppo facile per lui E' troppo facile per lui E' dopo Rabiot E' dopo Rabiot Che è Gesù Anche il Cristiano Fa gol Purtroppo ci sta Non è Non è colpa Di De Ligt sempre Ci sta Penso che sia giusto questo rigore Szczesny contro Ibra Tanto per farci capire che questa partita Non è finita E' ancora tanto da darci Dai Rabiot Dopo un gol del genere Bisogna vincere Però Ibra Gol di Ibra Gol di Ibra Su calcio di rigore Milan 1 Juventus 2 Questa partita Sembrava noiosa Nel primo tempo E invece Ci sta regalando Un po' di Di brividi Di gioie Di brividi In questo secondo tempo C'è Leao Che prova ad attaccare Adesso c'è Chessy Al limite Il Milan In trazione offensiva Importante Ahia Chessy Sti cazzi 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 Arriviamo sempre lì Cazzo Sembra una maledizione Sembra una maledizione Che tutte le volte Che Sarri Si avvicina un trofeo Poi qualcosa deve accadere Eh qua Milan ci ha uccellato Abbiamo difeso malissimo Eh Ma quanto abbiamo difeso malissimo Ma mamma santissima Quanto abbiamo difeso male Ma quanto abbiamo difeso male 2 a 0 per noi Ne prendiamo due Siamo usciti malissimo Siamo usciti malissimo Ma non lo può annullare Non lo può annullare Giusto E' buono Madonna santa Madonna santa Un conto è se non va in vantaggio Ma Era in vantaggio di due gol Puttana voia Puttana Eva Eh Il gol di Rabiot Ci ha maledetti Non può essere normale Una partita in cui Fa gol Rabiot Così Non può essere Una partita normale Se Rabiot Fa un gol del genere Eh si 2 a 2 Eh si 2 a 2 Eh addirittura Samba Rugani deve abbattere Rebic Madonna santa Ma non ci posso credere C'è il 3 a 2 Del Milan Ma cosa cazzo vuole dire Questa partita Rugani Ma cosa cazzo vuole dire Questa partita Ma non ha logica Non ha logica Non ha logica Non ha logica Show degli orrori di Rugani qua eh Sarò Molto molto gratico No 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 Cosa fa Alessandro 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 Ma cosa cazzo Fa Alessandro Ma cosa cazzo Fa Alessandro Ma se vieni a giocare Il giovedì con gli over non le vedi queste cose No Non esiste Non esiste Non esiste Non esiste